Ci siamo lasciati qualche settimana fa sulle tracce della mucca marchigiana all'acedonia ma domani è venerdì 12, scatta la grande festa, la tessa grande festa della marchigiana a Capriglia in località in Bricera, proprio all'ingresso del paese, l'evento organizzato dalla macelleria di Antonio Ruta ecco vedete già il menu, la mia festa della marchigiana con fusili con ragù bianco di marchigiana hamburger di marchigiana con caciocavallo, tagliata a rucola e pomodorini, bistecca a letto, entracotta a letto patatine fritte, polpettine fritte aromatizzate e insomma c'è davvero dalle cassi i baffi ma andiamo a trovare Antonio Allora caro Antonio, caro Massimo tutto bene, tutto a posto? Domani si parte la prima delle tre serate La prima delle tre serate della festa della marchigiana Prove tecniche di braccio, stiamo provando un pochettino prima per vedere se andiamo bene a fare questa festa spero che la gente ci vieni tutto, vieni a degustare una bella bistecca della marchigiana e ottimo vino locale che facciamo noi Non mancherà la musica con i souvenir, quindi bisogna signori affrettarsi per trovare un posto perché già ci sono tante prenotazioni Sì, per domenica a pranzo abbiamo già delle molte prenotazioni però cerchiamo di affrettarci perché comunque siamo arrivati al vivo della festa quindi manca davvero poco Il obiettivo è che vengono anche da fuori provincia Sì, la maggior parte è da fuori provincia Questo è il fascino della mucca marchigiana Il fascino della mucca marchigiana Lei è un'artista della macelleria, cosa ha di speciale questa carne? Questa carne è una carne molto buona, è una carne molto matura abbiamo fatto macellata prima una ventina di giorni di frollatura è una carne che si deve gustare per farla La delizia del palato Intanto Massimo vediamo questo spazio verde saranno i tavoli, saranno in questa bella oasi fresca Sarò allestito con tavoli, sedie, panche, musica, dei souvenir Diciamo che questa zona qui è proprio il cuore dove stanno i tavoli che devono degustare tutti i clienti Bene, allora Massimo vogliamo ricordare i numeri di telefono Sì, per le protezioni di domenica Allora potete chiamare al numero 380-904-3323 oppure al numero 340-350-6762 A Capriglia vi aspettano tutti i signori da domani sera, sabato sera, domenica sera Ce n'è di marchigiana Ce n'è di marchigiana, non mancherà Grazie Grazie